ho utilizzato la tela ho scoperto che il temporale addirittura non solo ha rotto non sono rotto la tela ma caspita la tela girata è stata consumata non è mica ridotta così ma quanto ha spinto il vento ho disintegrato le ancoraggi e fortuna che la struttura di ferro è piombata quello è un vaso di plastica il pietro di cemento armato come contropeso costruttivo ma cacchio la tela ma che razza di buco pazzesco vediamo di qua ma l'osca a beva proprio uno nuovo ciao 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 ciao